18,1 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni per favorire la transizione energetica grazie allo sviluppo e all'integrazione delle fonti rinnovabili. Questi tratti salienti del nuovo piano di sviluppo 2021 della rete elettrica di trasmissione nazionale illustrato a Roma da Terna. Credo che questo sia uno degli elementi fondamentali per rilanciare il nostro Paese. Nelle infrastrutture italiane ogni euro speso diventa 2-3 euro di pilla, a seconda del settore di cui stiamo parlando. Credo che sia molto importante, si generano posti di lavoro, l'economia che funziona è davvero forse il primo obiettivo. L'evoluzione del sistema energetico genera una necessità di trasporto e di garanzia del sistema sempre maggiore e di conseguenza bisogna connettere diverse aree del Paese, irrobustire questi collegamenti, di garantire la capacità, garantire la resilienza, garantire la sicurezza. Tutto questo richiede investimenti importanti e a quali vanno aggiunte anche quelle attività di interconnessione con l'estero necessarie per la posizione geografica e per l'importanza che l'Italia ha come abbe energetico in questa porzione del Mediterraneo. Per far fronte alla profonda trasformazione in atto nel settore elettrico, Terna ha dunque deciso di imprimere un'importante accelerazione degli investimenti previsti nel piano di sviluppo decennale, segnando un più 25% rispetto al precedente. Il piano è un esercizio di sviluppo del futuro e deve essere un esercizio di sviluppo del futuro efficiente. Questo dell'analisi costi-benefici, dell'attenzione ai costi e ai benefici che sono in grado di determinare per il sistema è sicuramente l'elemento centrale a cui guarda l'autorità anche in fase di valutazione. È un piano di sviluppo sostenibile. Il 95% degli investimenti di Terna, in effetti, se lo si guarda, se lo si analizza rispetto alla tassonomia europea, può essere definito sostenibile. Secondo le stime di Terna, gli interventi programmati nell'arco di piano permetteranno di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 per 5,6 milioni di tonnellate annue e consentiranno di demolire 4.600 chilometri di infrastrutture obsolete. L'elettrificazione diventa un po' la base di partenza per qualunque operazione incisiva che vada a decarbonizzare i grandi settori che incidono, quindi mobilità, manifatture, industria, abitazioni, vita. Abbiamo un ruolo internazionale in questo momento molto importante. Siamo guardati, non perché abbiamo avuto molti soldi, ma perché stiamo facendo un'operazione molto importante. Quindi va fatto anche con un po' di orgoglio. Un piano a portata di click. Per la prima volta Terna ha infatti realizzato anche un'app pubblica e interattiva che consentirà ai cittadini di essere sempre informati.